salve ragazzi è sera e vi voglio tenere compagnia l'operazione all'occhio è andata bene però dicevano che ci frega no dico volete vedere ballando sotto le stelle no dice ricca non ci interessa ballando sotto le stelle non lo vogliamo vedere non sapete cosa vedere no ci abbiamo un filmetto qualcosa vabbè per tutti quelli che invece sono appassionati di stilo grafiche alla stasera io vi propongo 37 video c'è come 37 video ma tutti insieme per i sceglieti c'è tempo per vedere 30 e ci mancherebbe vedere scegli uno due quello che ti vuoi vedere e poi e poi te li vedrai resta nei prossimi giorni dice che e che cosa un nuovo canale che è da circa nuovo per modo di dire perché da circa cinque mesi a un centinaio di l'ha superati cento di iscritti però allora aiutatelo andate vi iscrivete vi vedete qualche cosa e decidete se iscrivervi oppure no va bene comunque sono tutti i belli canali stilografici a quello che vi propongo stasera è generazione stilografica e vi metto il link per cui ci potete cliccare sopra nella prima descrizione di questo video e ve lo andate a vedere c'è un po di tutto dalle rembrandt a lomas a qualcos'altro di più economico quindi insomma comunque ci date un'occhiata poi ve lo vedete quando vi pare ritornate a guardarvi ballando sotto le stelle in questa semplice bellissima domenica bestiale un abbraccio e faber castro a tutti grazie a tutti